Lola, 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 la cariona Ciao e bentornati in un nuovo video di Lola la Cariona Nel video di oggi andrò a fare per la prima volta il bullet journal Sono andata a comprare questi quaderni alla Coupe e sono fatti anche con materiale reciclato quindi sono molto contenta perché tra virgolette è successo per sbaglio nel senso che non stavo cercando apposta materiali reciclati però ovviamente se sono già fatti così meglio quindi niente, iniziamo dalla copertina mi piaceva il fatto che fosse vuota così che potessi personalizzare anche questa e sono andata a scrivere semplicemente la data, cioè l'anno 2021 e sotto sono andata a scrivere cosa mi auguro per questo 2021 in diverse calligrafie e con appunto diverse parole chiave Questo è soltanto per la copertina e nel video vedrete spesso queste pause in cui osservo per vedere cosa devo aggiungere o no Quindi la copertina è fatta, passiamo all'interno Alla prima pagina sono andata di nuovo a scrivere il 2021 prima con questo penarello grigio e poi sono andata con le matite ad aiutarmi Penso che per il futuro andrò a usare molto di più le matite perché andando poi a vedere più avanti ho usato di più i penarelli e si vede attraverso quindi penso che le matite per questo quaderno che appunto ha le pagine molto sottile siano la cosa migliore Sono quindi semplicemente andata a decorare come più mi piaceva e poi partiamo dalla prima pagina La prima pagina sono i buoni propositi Trovo che sia una bellissima idea di scrivere dentro all'interno della nostra agenda in modo da vederli più spesso e ricordarci che cosa vogliamo fare in questo nuovo anno Ce li ho già in mente però ho pensato di lasciare il bullet journal vuoto fino alla fine del video così di avere un'immagine più pulita Quindi passiamo alla prossima pagina qui sono andata a creare due spazi uno per l'idea dei video e uno per l'idea del cucito Come ben sapete ho comprato questa nuova macchina da cucire bellissima e quindi ho in progetto di fare altri lavori con la macchina da cucire Sono andata semplicemente poi a fare dei disegnini da entrambe le parti prima con la lampadina per ricordare le idee e poi ho ripreso i punti della macchina da cucire a fianco appunto del riquadro delle idee per il cucito Sono andata poi sulla nuova pagina a scrivere gli obiettivi che cosa voglio fare per esempio appunto caricare video youtube almeno tre al mese mi piacerebbe una settimana però ci sono periodi un po' stressanti nel quale appunto mi diviene troppo difficile e quindi niente come goal sarebbe già soltanto tre al mese sarebbe una figata spero appunto di riuscire a soddisfare questi obiettivi però appunto sono meno importanti dei buoni propositi passiamo poi alla prossima pagina qua ho lasciato due pagine perché è passato tutto attraverso ho scritto goal si vede troppo marcato e nella prossima pagina vediamo i mesi qui ho una bellissima nota per il prossimo anno nel quale dovrò creare prima i quadrati o i rettangoli nel quale andrò a scrivere i numeri perché si potrà vedere che l'ho fatto in maniera molto imprecisa e non risulta così carino come invece negli altri bullet journal delle altre ragazze o degli altri ragazzi che ho visto usciva quindi niente da ricordarvi per l'anno prossimo di non farlo così a occhio passiamo alla prossima pagina che è gennaio anche qui sono partita con diverse idee poi alla fine ho cambiato e anche qui ho cercato ispirazione dai diversi bullet journal che già appunto ci sono su youtube o anche su google e ho optato per una cosa semplice quindi sono andata a scrivere gennaio sempre con il penarello grigio e poi sono andata a fare questo accento accenno o come si dice questo disegnino degli occhi chiusi che mi piaceva molto e poi sono andata a creare diversi puntini sia col colore grigio che col colore azzurro e sono andata a creare la frase bellissima che mi piace tantissimo ci sono due regole nel mondo uno non mollare mai e due non dimenticare mai la regola numero uno e penso che la cosa di non mollare mai per me come persona ma magari anche per altri possa essere positivo devo vederla a inizio mese soprattutto a inizio anno come gennaio sono andata poi a continuare sull'altra pagina con semplicemente tre caselle perché gennaio ha appunto quattro settimane tutte compatte diciamo e poi ha questi primi tre giorni separati quindi venerdì, sabato e domenica e sono andata semplicemente a farlo prima a matita e poi sono andata a ripassarlo in penna ripassando in penna mi sono poi accorta per le pagine successive che mi sarebbe piaciuto di più farlo con il nero più che col blu ma fa niente è il primo vuole giornale che faccio quindi ci sta anche sbagliare e improvvisare sono andata poi a scrivere con la penna il venerdì, sabato e domenica ma non mi piaceva allora sono andata poi a prendere uno scotch e sono andata a ricoprirlo che secondo me è un accenno carino che si ricollega anche alle pagine successive come vedrete nelle pagine successive infatti sono andata a prendere un foglio più spesso e sono andata a ricreare su questo otto riquadri nel quale appunto andrò a creare i sette giorni della settimana più uno che è altro anche qui sono andata a scrivere il nome del giorno e la data e poi sono andata a incollarlo sul quaderno sempre con lo scotch e la parte ricoperta dallo scotch sono andata di nuovo a ripassarla sopra in modo da averla in maniera chiara sono andata poi a tagliare lo scotch in modo che stesse bene sulle pagine e quindi questa è la struttura del mese sono contenta di averlo fatto su un altro foglio così che posso scarabocchiare e non aver paura che passa oltre sull'ultima pagina inoltre ho scritto cose che ho fatto questo mese di cui sono soddisfatta per me è sempre importante ricordarmi di cosa sono soddisfatta riguardiamo ora tutto il nostro bullet journal il mio bullet journal dalla prima pagina all'ultima con buoni propositi con l'idea per i video e i progetti di cucito con gli obiettivi e i goals da raggiungere con tutti i mesi che la trovo veramente geniale così che si può fare un'organizzazione più generale e poi con i mesi specifici quindi iniziamo con gennaio la prima settimana di gennaio la seconda la terza e la quarta sono andata poi a girare il quaderno in modo che si potesse vedere nel verso giusto e abbiamo adesso l'ultima pagina del bullet journal che è appunto che cose che ho fatto questo mese di cui sono soddisfatta che spero veramente di riempire in modo da rendermi conto delle cose che faccio e non sempre pensare di non fare abbastanza e così siamo arrivati alla fine del video spero che vi sia piaciuto che possa motivare anche voi magari a farne uno e niente vi auguro un buon anno e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti